allora eccoci qua chi mi segue sa che sto facendo una nuovissima challenge che è quella del lievito madre non l'ho mai fatto in vita mia mi sono sempre chiesta come funzionava e adesso visto che è un po di tempo posso affrontare questa questa nuova sfida questo qua il nostro piccolo neonato anche questo che mi segue sa che appena appena nato questa mattina è qui nel suo barattolino a riposo e fra 48 ore andremo di nuovo a lavorarlo per continuare tutta la lavorazione per arrivare al nostro bellissimo lievito madre non garantisco la riuscita perché è la prima volta anche per me però insomma ci proviamo una cosa l'ho detta anche nel video del primo giorno del lievito madre che io non ho la più palida idea o comunque non avevo la più palida idea di come si convertissero i grammi del lievito birro del lievito secco in quantità di lievito madre era un mistero ho chiesto domandato chi ne ha detto una chi ne ha detto un'altra alla fine spulcia spulcia ho chiamato un panettiere e ho fatto prima e mi ha spiegato una cosa molto molto interessante perché il mio dubbio durante le ultime panificazioni di questi altri giorni era che una volta aggiunta una massa di una certa quantità secca l'acqua fosse troppa o troppa poca della ricetta originale quando andiamo poi ovviamente ad usare ricette che usiamo tutti i giorni quindi non ricette apposite con il lievito madre e come si fa è più semplice a farsi che a dirsi o comunque chissà che mi immaginavo invece alla fine è sempre la matematica come la giriamo giriamo finiamo sempre lì come si converte una ricetta da lievito di birra al lievito madre il primo concetto è che un cubetto di lievito di birra da 25 grammi equivale a 300 grammi di lievito madre quindi se in una ricetta che abbiamo ci sono 25 grammi di lievito di birra noi dobbiamo sostituirlo con 300 grammi di lievito madre e dobbiamo anche averli questi 300 grammi di lievito madre poi la quantità di farina e la quantità di liquidi quindi che sia latte o acqua non è la stessa non possiamo semplicemente sostituire il lievito di birra ma dobbiamo andare a bilanciare anche questi altri due ingredienti infatti io da subito pensavo questo e non riuscivo a trovare una risposta allora anche qui è semplicissimo se prendiamo 300 grammi di lievito madre molto semplicemente dovremmo sottrarre lo stesso peso di acqua e liquidi all'interno della ricetta ma non 300 grammi di acqua e 300 grammi di farina ma complessivamente 300 grammi siccome la maggior parte del lievito madre come vedremo poi più avanti negli altri giorni nella preparazione del lievito madre il lievito madre può avere un'idratazione al 50% o al 100% al 50% vuol dire che dovremmo rinfrescarlo un po più spesso al 100% quando diamo idratazione al 100% vuol dire che potremmo tenerlo magari in frigorifero per un mese intero un mese e mezzo prima di andare a toccarlo e rinfrescarlo di nuovo è solo questa la differenza allora abbiamo detto che se prendiamo 300 grammi di lievito madre dovremmo sottrarre dalla ricetta 200 grammi di farina e 100 grammi di acqua o liquido quindi latte o quello che volete e questo è importante questo è fondamentale ed è praticamente il come si proporzionano le dosi quando si usa una ricetta con lievito di birra utilizzando però il lievito madre questo è quanto molto semplice ma penso che proprio più semplice di così non si può quindi se abbiamo una ricetta con 500 grammi di farina dove dovremmo applicare un cubetto di lievito di birra da 25 grammi semplicemente prenderemo 300 grammi di lievito madre alla farina sottrarremo 200 grammi di farina e all'acqua 100 grammi di acqua tutto qua e poi proseguiremo con con la ricetta come sempre semplicissimo una risposta che veramente per trovarla ci ho messo una settimana e questa è la risposta per il lievito secco basta solo sapere che 6 grammi di lievito secco equivalgono a 240 grammi di lievito madre e quando andremo a sottrarre l'acqua o comunque i liquidi e la farina non andremo in rapporto 2 a 1 ma andremo in rapporto 1 a 1 quindi delle 250 grammi di lievito madre sottrarremo 120 grammi di liquido e 120 grammi di farina tutto qua spero di essere stata chiara 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 se avete domande lasciatemele giù nei commenti che cercherò di rispondervi ed essere ancora più chiara se non lo sono stato e se volete seguire altre ricette volete rimanere aggiornati sulle prossime puntate sul nostro piccolo cucciolo qui nel barattolo iscrivetevi al canale spuntate la campanella così vi arriverà la notifica di quanto pubblicherò gli altri video e niente come sempre un ciao ne proprio a tutti e alla prossima